Essere colpiti da un fulmine, un'eventualità rara ma purtroppo possibile. La morte dell'imprenditore dolciario Alberto Balocco, avvenuta durante un'escursione in bicicletta, è un triste esempio. Ma sono diversi i casi registrati solo in Italia durante quest'estate. Non rassicura dunque che proprio la provincia di Lecco sia quella più colpita dai fulmini nel nostro paese. E' evidenziarlo i dati di Meteorage, rete europea di rilevamento fulmini. Nei primi sei mesi del 2022 il territorio lecchese, seguito da quello comasco, è quello che ha attirato più saette in tutta Italia, nel complesso 158.000 a livello nazionale nel periodo. Ma non è una novità. La provincia di Lecco è risultata in testa a questa classifica anche nel 2021, nel 2019 e nel 2018. Insomma, quasi ogni anno, da quando Meteorage rende pubblici i dati della sua rete nazionale, acquisita dal SIRF, lo storico sistema italiano rilevamento fulmini. Un primato non solo italiano. Secondo uno studio realizzato nel Regno Unito, che ha preso in analisi un arco temporale di 5 anni, la densità più elevata di 7 in Europa, più di 6 fulmini e mezzo per anno e chilometro quadrato, è stato riscontato proprio sul ramo sudorientale dell'Ario, in prossimità della città di Lecco. Ciò è dovuto all'orografia del territorio. La fascia prealpine è la prima barriera contro cui si sconta l'umidità, causando temporali più frequenti. E l'aumento delle temperature degli ultimi anni sta portando a una tropicalizzazione del clima, con un ulteriore incremento dei temporali e dunque dei fulmini. Quindi è meglio prestare attenzione. L'Istituto Superiore di Sanità ha diffuso un vademecum per minimizzare il rischio di essere colpiti. In montagna o all'aperto bisogna evitare di ripararsi sotto un albero o in un bosco. Gli alberi sono infatti particolarmente esposti ai fulmini. Se poi l'albero è isolato, il rischio di essere colpiti è ancora maggiore. È consigliabile inoltre stare lontano dai pali, anche quelli delle fermate dei bus e dai muri. La cosa migliore, se non è possibile mettersi al coperto, è stare in uno spazio aperto, lontano da oggetti appuntiti o metallici, compresi ombrelli, bastoni e piccozze. La posizione migliore da assumere è stare accovacciati. Meglio evitare di parlare al cellulare. È pericoloso fare il bagno al lago durante un temporale. L'acqua è un buon conduttore elettrico. La casa è un posto sicuro, ma è meglio evitare di fare il bagno o la doccia e di lavare i panni. Anche la macchina è un posto sicuro. È una gabbia metallica che scarica l'eventuale fulmine sulle gomme, l'effetto noto come gabbia di Faraday.